Il peggior nemico di chi va in moto è la visiera appannata. Lo è anche per i piloti e quando corrono ad Onington nel loro kit non manca la mascherina per isolare la respirazione. La presa d'aria sul mento resta aperta. In case estremi c'è chi guida con la visiera sollevata di pochi millimetri, ma ogni casco reagisce in base alle proprie caratteristiche a quelle di chi lo indossa. Una soluzione efficace all'appannamento si chiama Pinlock. È una seconda visiera, più piccola, posta all'interno. Le sottili guarnizioni in silicone si appoggiano sulla sua superficie e poi tramite gli ellitici trasparenti si porta il Pinlock in tensione in modo che le due visiere siano perfettamente aderenti. Occhio a maneggiarla con cura perché il materiale con cui è realizzato il Pinlock non è antigraffio per via della sua capacità assorbente. Se piove la visiera va tenuta abbassata perché si filtra rigagnolo di acqua e trova un'insenatura tra le due visiere. Ciao Pinlock, adesso fate una prova. Soffiate affannosamente e vi accorgerete che si appannerà solo il contorno della visiera, quello non protetto dal visierico. Guidare sicuri quindi si può in pista come su strada anche quando piove.